Ed è la prima volta che torno. Quello che è successo è molto semplice. Gli Elkan hanno abbandonato l'Italia nel silenzio generale. Io ho invocato tante volte l'intervento per bloccare la vendita ai magneti Marelli. Ho invocato tante volte un intervento per non dare una garanzia pubblica per far pagare un dividendo in Olanda agli azionisti della Fiat. La politica non ha fatto niente, il sindacato non ha detto niente, e non ha detto niente perché gli Elkan si sono comprati il principale giornale di sinistra che è La Repubblica. Queste cose è tempo di dirle perché ci vanno di mezzo gli operai che in questi anni in Italia hanno sofferto persino troppo.